Siamo tutti peccatori. Questa è una frase che molto spesso leggo anche su alcuni profili cristiani e molte volte l'ho sentita pronunciare anche a dei fratelli e delle sorelle in fede. Questa frase tante volte viene detta per dire che alla fine non c'è nessuno che non sbaglia mai. Che non c'è nessuno che non pecca mai. Questo è vero, che non c'è nessuno che non pecca mai è una verità biblica. Però il credente deve identificarsi ancora oggi con i peccatori? Perché un conto è cadere nel peccato e quando parliamo di una caduta nel peccato ci riferiamo sempre a un incidente di percorso. La caduta è un incidente. Nessuno cade mai in modo volontario o volentieri. È sempre qualcosa di accidentale. Quindi se noi diciamo che anche il credente purtroppo pecca diciamo una verità, ma parliamo di una caduta accidentale, un incidente di percorso. Ma identificare il credente come peccatore, cioè annoverarlo ancora oggi con i peccatori che non si sono ravveduti e pentiti, è un gravissimo errore. Tante volte leggo, anche nei commenti, ma tanto siamo tutti peccatori, non dobbiamo giudicare. No, attenzione, noi credenti non siamo più peccatori. Noi siamo degli ex peccatori. Il credente è un peccatore o è un santo? Rispondete a questa mia domanda. È un santo, non è più un peccatore. Era un peccatore che Dio ha salvato, che ha chiamato a sé, che l'ha appartato. E uno appartato per Dio è un santo. Infatti il significato della parola santo vuol dire messo a parte, appartato. Quindi credo che sia completamente sbagliato annoverare ancora oggi i credenti tra i peccatori. Noi eravamo peccatori. E adesso vi spiegherò perché dico queste parole. E ci sono dei passi biblici che ci aiutano a comprendere questa verità. A volte per un eccesso di umiltà. Un eccesso di umiltà ci porta a dire, sì, ma siamo tutti peccatori. E questo tante volte si dice per giustificare il peccato, che non deve essere mai giustificato. Ma vediamo che cosa dice la parola di Dio in merito a questo argomento. Se noi leggiamo in Prima Timoteo, capitolo 1, i versetti 12 e 13, l'Apostolo Paolo dice Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Qui l'Apostolo Paolo sta rendendo una sua incredulità. Qui l'Apostolo Paolo sta rendendo una sua breve testimonianza e notate che cosa dice al versetto 13. Dice che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Paolo dice che prima era un bestemmiatore, nel momento in cui scriveva questa lettera a Timoteo non era più un persecutore, non era più un violento. E dice che agiva in quel modo per ignoranza, notate, usa un verbo al passato, agivo, non lo faccio più oggi. E perché lo faceva? Per ignoranza nella sua incredulità. Non era credente quando si comportava in quel modo. Ma nel momento in cui ha ricevuto Cristo, ha ricevuto la misericordia di Dio, ha ricevuto il Signore Gesù nella sua vita, e non era più un bestemmiatore, non era più un persecutore, non era più un violento, non era più un peccatore incallito. Capite, fratelli e sorelle, noi dobbiamo stare attenti perché purtroppo anche da credenti anziani negli anni, leggo spesso, ma siamo tutti peccatori. Non è vero, io non sono più un peccatore, io sono un santo e non significa che non pecco più. Purtroppo cado, ma il peccato non è più il mio stile di vita. Un peccatore si diletta nel peccare, un peccatore fa quello di mestiere. Notate questi esempi che vi faccio. Un muratore, chi è il muratore? Colui che erige dei muri, costruisce dei muri. Chi è un intonacatore? Colui che realizza gli intonaci. Il pittore che cosa fa? Realizza tinteggi. Quindi fanno dei mestieri. Notate, finiscono tutti con la parola atore, muratore, intonacatore, peccatore. Un muratore è colui che costruisce muri e lo fa di mestiere, è la sua specializzazione. L'intonacatore, e ve lo dico perché è il mio mestiere, è la mia attività, è specializzato nel realizzare intonaci, lo fa di mestiere. Il peccatore è qualcuno che di mestiere compie peccati e noi non compiamo più quei peccati, noi siamo degli ex peccatori. Un ex muratore è qualcuno che non realizza più dei muri. Un ex muratore non costruisce più muri. Un ex intonacatore non realizza più intonaci. Lo faceva, ma è un ex muratore, adesso ha cambiato mestiere. Quindi non possiamo dire di essere ancora peccatori, perché abbiamo cambiato mestiere anche noi. Eravamo peccatori, adesso siamo santi, chiamati a camminare in santità. E ripeto, tante volte si usa, si usa proprio questa frase nell'ambiente cristiani, siamo tutti peccatori. No, è sbagliatissimo. Noi siamo santi, eravamo peccatori perduti, impregnati di peccato, facevamo quello di mestiere. Poi il Signore ci ha usato misericordia. Non possiamo continuare ad agire come quando eravamo ignoranti e increduli. anche noi, anche noi prima eravamo bestemmiatori, persecutori, compivamo ogni sorta di peccato, ma poi il Signore ci ha usato misericordia. Facevamo quelle cose perché agivamo nell'ignoranza della nostra incredulità. Adesso siamo credenti e non possiamo più fare le cose di prima. Capite? Dobbiamo vegliare perché la frase siamo tutti peccatori è una frase che serve anche negli ambienti cristiani per giustificare il peccato, per dire che non dobbiamo giudicare. E su questo non voglio aprire nessuna parentesi, se no mi dilungo molto, ma è uno dei miei prossimi argomenti. bisogna giudicare o non giudicare, lo analizzeremo alla luce della scrittura. Quindi, fratelli, sorelle, vediamo, siamo stati chiamati a vivere in santità, a separarci, a non conformarci con questo mondo, a separarci dal mondo. Un santo è uno separato dal mondo, appartato. E la santificazione non è altro che la continua e costante, graduale, separazione dal mondo. Altro che siamo tutti peccatori. Noi siamo tutti ex-peccatori. Eravamo peccatori di mestiere, incalliti, specializzati a commettere peccati su peccati. Ma poi Dio ci ha fatto misericordia. Eravamo ignoranti, increduli. Adesso non siamo più ignoranti, abbiamo la conoscenza della parola. non siamo più increduli, ma credenti. E quindi non dobbiamo più fare quel vecchio mestiere, ma dobbiamo vivere in novità di vita. Se uno è in Cristo, le cose vecchie sono passate. Se continuiamo a vivere come vivevamo prima, ma quali sono queste cose vecchie che sono passate? Siamo nuove creature chiamate a vivere una vita nuova. Come faccio a vivere in novità di vita? Come faccio a vivere in santità? Dimorando in Cristo, lasciando a Lui le regini della nostra vita, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. E da questo siamo stati chiamati a crescere in santità e consacrazione. Altro che siamo tutti peccatori. io non mi identifico con i peccatori. Io sono, ero uno di loro ed ero terribilmente bravo a commettere peccati. Oggi sono un figlio di Dio, un santo, chiamato a vivere in santità e consacrazione a Dio. Vi ricordate che cosa disse il Signore Gesù alla peccatrice perdonata? Quali furono le ultime parole che il Signore Gesù disse? Gesù disse, va e continua a pecare? Continua a essere peccatrice? Non gli disse questo. Disse, va e non pecare più. Fu questo il comandamento che il Signore gli diede. Io ti ho perdonata, io non ti condanno, ma va e non vivere più la vita di prima, non essere più una peccatrice. ma vivi in novità di vita. E il Signore l'ha detto anche a noi quando ci ha perdonato. Ha detto, andate e non peccate più. Che non significa che non cadiamo più, ma che non facciamo più di mestiere i peccatori. Quindi non siamo più peccatori. Così come il muratore quando cambia mestiere non fa più i muri, così come l'intonacatore quando cambia mestiere non fa più l'intonaco, allo stesso modo il peccatore che diventa santo non vive più dilettandosi nel peccato. Cade, inciampa, si sporca, ma sono tutti incidenti di percorso che fanno parte anche questi della nostra crescita spirituale. Ma non ci dobbiamo dilettare nel peccato perché c'è un abuso della grazia. Ci sono coloro che hanno volto la grazia in dissolutezza e con la frase siamo tutti peccatori mettono a posto la loro coscienza. Non funziona così. Assolutamente. Lo Spirito Santo ci riprende e ci esorta del continuo a camminare in santità, a vivere diversamente da come vivevamo prima. Altrimenti di che conversione stiamo parlando? Se una persona si converte e non cambia vuol dire che non c'è stata mai una reale conversione. Dei frutti nel tempo di cambiamento ci devono essere e i frutti sono proprio questi quelli di ravvedimento cioè io non vivo più come prima quando ero ignorante e quando ero incredulo. Quindi fratelli sorelle state attenti non è per niente vero che un figlio di Dio lavato con il sangue purissimo del Signore Gesù è ancora da etichettare o identificare con i peccatori di questo mondo che non si sono ancora ravveduti e pentiti. Siamo stati lavati giustificati il Signore ci ha santificati poi ci ha detto ecco io vi ho salvati adesso camminate sulla via della santificazione in santità altro altro che peccatori di mestiere altro che continuare a dilettarci nelle cose che facevamo prima concludo questa mia riflessione e spero di aver spiegato in modo chiaro anche questo argomento bisogna fare luce bisogna fare luce dobbiamo crescere in santità e consacrazione non continuare a vivere come vivevamo prima perché se continuiamo a vivere come vivevamo prima vuol dire che niente è cambiato nel nostro cuore che il Signore ci benedica voglio solo chiarire questo che questi cambiamenti questi frutti di ravvedimento non è che avvengono dall'oggi al domani è un percorso è un cammino ognuno di noi ha dei tempi diversi ma ci devono essere dei frutti di cambiamento dei frutti di ravvedimento altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va grazie a tutti per la vostra attenzione e spero di aver dato gloria al nome del Signore con questa mia meditazione un abbraccio a tutti